frutto della vittoria pasquale, ogni onore e gloria nei secoli dei secoli. L'Arcivescovo di Catania Luigi Renna ha inaugurato lo speciale anno giubilare di Monpiglieri, territorio di Mascaluccia, in provincia di Catania. L'evento è stato coincidente con il centenario di erezione dell'umilo oratorio di Monpiglieri a Santuario, ma anche con il settimo anniversario della consagrazione a Vescovo del Pastore della Chiesa Catanese. Cento anni fa questo luogo è stato elevato alla dignità di Santuario Diocesano da Monsignor Franci Canava in un progetto pastorale che voleva mettere anche al centro della devozione della Diocesi di Catania Maria con questo titolo Madonna della Sciara, un titolo che è legato ad un luogo che prima aveva visto occultata la bellezza del simulacro della Madonna e poi ecco era riemersa dal buio, dalla lava, quasi a dire che Maria veramente è sempre fonte di speranza e allora il titolo che abbiamo voluto dare a questo giubileo, Gioisci figlia di Sion, è il saluto del Signore a Sion, l'antico Israele perché le promette il Salvatore, è il saluto rivolto a Maria Rallegrati ma è anche il saluto rivolto alla Chiesa perché sappia vivere la sua vocazione in questo momento storico e Gioisci figlia di Sion è per noi motivo per sentire il Signore vicino già nel grembo della nostra terra che ci spinge ad essere lievito per una società più giusta e più equa. Tanti appuntamenti in programma nell'anno giubilare in particolare ad aprile a settembre il santuario della Madonna della Sciara di Monpiglieri ospiterà un ciclo di incontri teologici mensili esplicitamente voluti dall'arcivescovo che saranno proposti da alcuni docenti dello studio teologico San Paolo di Catania. Il tutto culminerà nell'annuale pellegrinaggio della Chiesa Catanese del 30 maggio. Ad agosto prevista a Monpiglieri anche la presenza del cardinale Matteo Maria Zuppi arcivescovo di Bologna. Nel corso del giubileo sono previsti momenti liturgici incontri che saranno tenuti dal rettore del santuario di Monpiglieri Don Alfio Privitera. Si indice un anno giubilare chiedendo il dono alla Santa Sede il dono dell'indulgenza plenaria proprio perché sia anche un anno di grande misericordia di grande ritorno, di grande riconciliazione che è in tante anime. Poi nel senso, questo è un momento di festa, poi nella quotidianità perché il santuario è aperto tutti i giorni dalle nove e mezza alla sera, ininterrottamente la gente viene attraverso la Porta Santa, si ferma in preghiera, si può e si confessa magari entro gli otto giorni, fa la comunione, prega per il Papa e c'è questo dono che parla della comunione dei Santi in Cristo. Ecco, i loro meriti vengono dati a noi per riequilibrare quegli squilibri che si causano un po' con i nostri peccati, per ridarci tanta gioia.